Terza lezione e finalmente iniziamo a vedere questo codice CSS Prima mi sono dimenticato di dirvi che dobbiamo cancellare anche gli attributi che contiene il tag body E salvare Ok, ora iniziamo a vedere com'è la struttura del codice CSS Andiamo nel nostro file style e vediamo come iniziare Per esempio proviamo a cambiare carattere ai paragrafi che abbiamo Che sono 4, 3 all'inizio e l'ultimo qua in fondo Riaggiorniamo così torna tutto alla normalità e andiamo I paragrafi sono scritti con il tag p e quindi anche nel CSS dobbiamo scrivere p E quindi in questo modo selezioniamo tutti i paragrafi della pagina Ora spazio e quindi scriviamo le parentesi graffe che aprono lo spazio nel quale si inserisce il codice E nella tastiera italiana si fa con CTRL ALT SHIFT e è accentato per aprire e più per chiudere Nella tastiera inglese invece abbiamo SHIFT e sempre i due tasti è accentato e più Cosa molto più facile Va bene, fatto Facciamoci un po' di spazio all'interno Spingiamo TAB per spostare il cursore un po' più a destra E iniziamo a scrivere Noi volevamo cambiare il carattere E questo si fa con il codice font trattino family Ora si mettono due punti Scusate qua ho sbagliato Si mettono due punti e si scrive il carattere Per esempio verdana E si chiude Questa è la struttura del codice CSS Nel quale abbiamo il selettore che può essere il nome di un tag O altri selettori che vedremo nelle lezioni più avanti E la parentesi graffa che apre lo spazio nel quale ci sono i parametri E la parentesi graffa che chiude poi questo spazio Poi c'è il parametro Con due punti a posto dell'uguale La sua impostazione diciamo chiusa da un punto e virgola Salviamo il file Andiamo nel nostro primo sito e vediamo Riaggiornando che Tutti i paragrafi hanno cambiato il loro stile In verdana Cosa succede se invece Il computer sul quale si visualizza il sito Non ha il carattere verdana In questo caso il CSS ha provveduto E ha fatto in modo che dopo la virgola Ci si può aggiungere altri stili Per esempio così Verdana, Tahoma Sans, Serif Sans, Sans, Serif Che sono tutti i caratteri Diciamo così Senza stile Senza Dei aggiuntivi Diciamo I caratteri semplici Salviamo E se riaggiorniamo Verdana è presente sul computer E quindi rimane Ok Un altro parametro Sempre inizia con font Spingiamo tab Inizia sempre con font Ed è size E size sta per misura La misura La misura si può scrivere In pixel In percentuale E in misura M E anche una misura Che si chiama Pt I pixel sapete già Che misura è Invece La misura M Sono le grandezze Della lettera M Del carattere Proviamo a vedere Mettiamo 3M Per esempio Adesso dovrebbe diventare Gigantesco Perché La lettera M Tre volte Dobbiamo prendere E Ingrandirla Si può scrivere In percentuale In questo modo Ne vediamo 10% Un po' poco Come vedete La lista non cambia Perché non è all'interno Del tag P E invece I link Essendo all'interno Del tag P Cambiano Ok Io direi di Mettere 12 pixel E salvare E vedere Un altro parametro Che è Font Weight La grassezza Del testo Qua si può mettere Normal Oppure Bold Bold E grassetto E salvando Il testo Diventa di 12 pixel Che come abbiamo Selezionato in font size E diventa in grassetto Se invece Torniamo a normal Le cose si ristabilizzano Vediamo un altro parametro di font Che è font style Due punti Qua un attimo Così Font style Due punti E qui si può Metter lo stile del font Per esempio Italic Che sarebbe Corsivo Salviamo E un attimo C'è qualcosa Che Scritto Mal Italic Salviamo E vediamo Che il Testo è diventato Corsivo Qua si può Selezionare Anche Bold Sempre Oppure Non Per Niente Font Ha un altro Parametro Che è Font Variant Nel quale Si può Selezionare Altri Dei varianti Di font Per esempio Small Caps Salviamo E vediamo Che le nostre lettere Sono diventate Tutte maiuscole Ma un po' Più piccole Della lettera Maiuscola Vera Invece Mettendo Qui Normal Tutto Torna A posto Ecco qua Ok Abbiamo scritto Molto codice Tutto questo codice Si può Scrivere In solo In una sola riga Scrivendo Font E Abbreviando Così Per primo Si mette Lo style Nel nostro caso Non c'è Possiamo anche Non scriverlo Poi Weight Che non c'è Nel nostro caso E quindi Non lo scriviamo Size Che è 12 pixel Alziamo 14 E la famiglia Che era Verdana Tohoma E Sun Serif E chiudiamo Con un punto In virgola Possiamo Cancellare Tutto questo E lasciare Così Per vedere Un attimo Una prova Mettiamoci anche Lo style Italic E il weight Bold Salviamo Ed ecco Che E in grassetto E corsivo Per questa lezione Tutto Abbiamo lavorato Con il testo E nella prossima Vediamo Cosa invece Si può fare Con lo sfondo E i colori Del testo Cosa invece Cosa invece Cosa invece